A volte si fa riferimento a quell'incontro a Nazareno che ho avuto col sindaco qualche mese fa. In quell'incontro la donnavore Seracchiani, vice segretaria del partito, si era lasciata andare dicendo che non c'era la volontà politica neanche all'interno del suo partito di modificare la riforma della geografia giudiziaria. Se la battaglia per salvare il tribunale di Bassano era stata accesa, la chiusura del palazzo di giustizia di Via Marinali lo sarà ancora di più. Quel voto del Parlamento che a maggioranza ha respinto qualsiasi modifica alla riforma di geografia giudiziaria è l'ultima, ennesima delusione, patita da chi viceversa aveva ricevuto impegni precisi. Il partito democratico, che contava forse un partito serio, aveva messo nero su bianco che tra le prime cose da fare era il salvataggio del tribunale di Bassano. Si figuri poi quando vediamo che il ministro Orlando, cioè quello che ha scritto quelle due righe, è anche diventato ministro della giustizia, in qualsiasi stato normale, dove la politica sia normale, non ci sarebbe stato dubbio su cosa doveva succedere. Se per il presidente dell'ordine degli avvocati bassanesi il guardasigilli non ha mantenuto la promessa, di quanto accaduto in questi mesi la categoria degli avvocati è pronta ad impegnarsi in una promessa che viceversa ha tutta l'intenzione di mantenere a partire dalle prossime elezioni regionali. È chiaro che alle prossime elezioni regionali noi andremo giù di brutto, ma mi pare scontato, cioè chi non mantiene non le promesse ma ciò che scrive deve essere ricordato ai cittadini in modo di evitare di fare lo stesso errore. Cioè chi ha votato il Partito Democratico per quello che era scritto in quel programmino là non può rivotarlo, mi pare scontato e pacifico, ma rientra nella regola della democrazia.